L'Università di Agrigento trasloca Palazzo Tomasi, che si trova a Piano Sanso. È stato infatti formalmente stipulato il contratto di concessione d'uso della struttura al Consorzio Universitario di Agrigento in Pedocle. Un accordo, quello siglato con il Comune, che avrà per il Municipio risvolto anche di tipo economico, perché Palazzo dei Giganti potrà così ridurre in modo significativo la quota versata annualmente a titolo di somma di partecipazione alla compagine societaria del Consorzio. La concessione d'uso dell'immobile potrà ovviamente essere integrata ad eventuali prescrizioni che saranno disposte dalla sovrintendenza di Agrigento, preposta alla tutela del vincolo di bene di interesse storico-artistico. Le condizioni della struttura non sono tuttavia le migliori. Il bene è chiuso da anni e necessiterebbe di manutenzione, così come l'area in cui insiste, che è purtroppo teatro di abbandoni ripetuti e di rifiuti anche ingombranti. Palazzo Tomasi, immobile di circa 600 metri quadrati, è stato dichiarato nel 2004 dall'assessorato regionale beni culturali e ambientali di interesse storico-artistico. L'apertura di nuovi corsi di laurea nel centro storico di Agrigento garantirà un rilancio all'economia. Dovrebbe poter permettere il riutilizzo di tanti appartamenti del cuore della città, come alloggi per studenti, nonché la nascita di tante iniziative imprenditoriali e il riuso e la rifunzionalizzazione di quartieri che al momento sono di fatto in preda al degrado.